Gesù sta facendo davvero fatica a portare la croce così i soldati fermano un uomo un certo Simone che veniva dalla città di Cirene per questo fu soprannominato il Cireneo chiesero a questo Simone di Cirene di portare un po la croce in modo che Gesù avesse modo di recuperare un attimo e Simone non si tira indietro ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo diciamo insieme ti vogliamo aiutare il Signore ti vogliamo aiutare il Signore perché quando serve tu sempre aiuti noi ti vogliamo aiutare Signore perché il bene che facciamo rende la tua croce più leggera ti vogliamo aiutare Signore perché i nostri piccoli impegni ti consolano un po ti vogliamo aiutare Signore